Voglio che il tuo cervello faccia battere il suo cuore, più svelto, più svelto. Nei meandri della nostra mente è nascosta un'arma spaventosa. Una forza mostruosa, incontrollabile. E ora loro sanno come usarla. Cercherò di assorbirti il cervello. Dal folle regista di La Zona Morta e La Mosca. Scanners, giovedì alle 20.30, su Odeon. Ed eccoci nel pieno splendore dell'impero romano, che è stato fulgido esempio di compostezza e di armonia. E sai tu che in ogni pacco dei buoni biscotti che mangi trovi oggi una opulentissima moneta dei miei tempi, optima riproduzio dei denari romani? Et si tua esbaciata da Dea Fortuna può trovarne anche una tutta d'oro. Il fabuloso saureo romano. Su ragazzi! Biscotti Mr. Day. Golosoni te salutant. If there's anything that you want, if there's anything I can do, just call on me. Favra, sistemi per ufficio, indiscutibilmente fuori dall'ordinario. I ricevimenti dell'ambasciatore sono noti in società per il buon gusto del padrone di casa. Gusto italiano che conquista i suoi ospiti. Oh, Ferrero Rocher. Beautiful. Excellent. Ma se con Rocher c'ha proprio iniziate. Ferrero Rocher, una creazione dell'Italia che piace. Stock 84 Gran Riserva 6 anni. Più prezioso, il gioiello di casa Stock. Festeggiamolo con il ricco concorso di oltre 600 milioni. Stock. Prezioso come sei. Tutto si muove a tempo di Some People. Some People, l'album di Cliff Richard. Altizze 7 centimetri. Logizze 4. Profondità 1 e 5. Chiusura a scatto. Segni particolari nuda. Colia nuda. Prende fizzio di respirare. Il gusto di sempre. Il gusto di oggi. Il gusto di Pomì. Oggi pasta, oggi presto. Oggi tanto gusto. Pomì. Oggi rosso, oggi bene. Oggi tutto bene. Pomì. Oggi tutto come vuoi. Oggi con più sentimento. Oggi con Pomì. Con il giusto condimento. Oggi con Pomì. Oggi vivere così. Oggi con il gusto di. O così. O pomì. O pomì. Oggi con il giusto. Grazie.